Certamente lo può fare, ecco qui non ci sono componenti allergogene specifiche come potevano essere appunto un tempo le proteine delle uova o altri elementi, c'è da dire che sono soggetti che tendono ad avere delle risposte diciamo reattive abbastanza vivaci nell'ambito appunto dell'allergologia che forse magari vaccinerei in ambiente protetto la prima volta in particolare, questo sì, però ecco non ha controindicazioni specifiche da questo punto di vista.